Questo corso per me rappresentando una grande sfida, ho deciso di giocare con me stessa quando ho deciso di lasciare il lavoro che facevo da anni e di buttarmi in una nuova cosa. Io ho sempre lavorato nell'ambito della ristorazione, però più passavano gli anni e più mi vedevo portata nell'organizzare sempre di più tutte le cose che stavano intorno a tutta la mia vita quotidiana. E quindi facendo qualche ricerca sono arrivata a trovare il corso di Fondazione Fiera Milano e sono contentissima oggi di aver frequentato questo corso. Fiera Milano mi ha dato l'opportunità di fare lo stage in un'azienda di Milano che si chiama Tourney Eventi, è un'azienda di beverage and catering. Ho iniziato lo stage con loro a marzo del 2014, tuttora sto lavorando con loro, sono contentissima del lavoro che sto facendo, sono contentissima del team con cui lavoro e soprattutto sono cresciuta già professionalmente, ho avuto già una promozione all'interno dell'azienda, alla fine di novembre partirà il mio contratto vero e proprio con l'azienda per la quale io adesso rappresento la figura di Junior Project Manager e della quale vado fierissima e soprattutto sono arrivata a questo grazie a tutte le basi che mi sono state passate durante il corso che ho fatto in Accademia, quello sicuramente, quindi sono contentissima e spero che questa mia esperienza potrà andare avanti sempre in futuro. Questa borsa di studio per me è stata, non so neanche come definire la gioia e l'emozione che ho provato quando hanno detto il mio nome, rappresenta la pagamento di tutti i sacrifici, di tutte le cose che ho fatto durante quest'ultimo anno, quindi i miei pianti, le mie ansie durante il corso, il mio mettere passione in tutto quello che stavo facendo è stato proprio, rappresenta il crederci fino in fondo. Io ci ho creduto veramente fino in fondo, fin dal primo momento e oggi è il regalo più grande che potevo ricevere è stata questa borsa di studio e non so ancora cosa ne farò sicuramente, sicuro tutto questo lo devo grazie, cioè lo devo alla mia famiglia perché se non fosse sopra loro io non sarei qua oggi, quindi sicuramente qualcosa lo farò con loro, non so ancora cosa ma sicuramente con loro farò qualcosa e sono contentissima, non potevo chiedere nient'altro proprio. Grazie per la visione!